non sempre vince chi merita per oggi una roba clamorosa ora Blaovic che va a consolare i venuti che atterra in lacrime dopo l'autogol al 92esimo in una partita così importante sentita da tifosi viola con un cross in mezzo di quadrato veramente meritato questo gol tra l'altro autogol perché la Jumetos ha fatto un tiro in porta che non è il gol ma il tiro di Blaovic di palonetto parato da Terracciano per il resto nulla totale Igor ha chiuso tutto quello che poteva fare Blaovic ha chiuso tutto e anche il resto della difesa veramente vittoria immeritata per la Juventus e anche il pareggio sarebbe stato un po' stretto ai bianconeri la Fiorentina ha creato tanto ma non riesce a segnare comunque la coreografia iniziale nel nome di Tantalichieri verso Blaovic per il traditore se vogliamo e comunque oggi la Fiorentina meritava al minimo di vincere con un gol di scarto perché crea tantissimo la Fiorentina anzi la Juventus fatica molto ha molto il possesso palla la Viola che però perde così ingiustamente 1-0 dall'Artemio Franchi per la Juventus le semifinali di Coppa Italia d'andata ora si gioca tutto a Torino dove la Fiorentina dovrà fare la partita della vita e perdono così veramente giustamente mi dispiace tanto venuti a terra e laghi ma già ve l'ho detto una roba clamorosa non so che dire perché vedere una roba del genere è clamoroso la Fiorentina ha dominato la partita Blaovic non ha toccato un pallone a parte quel tiro dall'altra parte anche Piontek ma Icon è stato devastante imprendibile per i giocatori della Juventus ha preso un palo esterno veramente clamoroso con un grandissimo lancio di Torreira poi a contrasto con De Sciglio grandissima sterzata e palo alla Cassano questa giocata però palla che termina appunto sul palo esterno una grandissima sempre giocata di questo calciatore che è devastante a campo aperto punta De Sciglio incrocia e Perin la vede dentro ma palla che esce di un soffio la Fiorentina che crea tanto o altro la punizione di Piraghi parata da Perin e poi raccontarle tutte sarebbe veramente assurdo e la Juventus con primo tiro in porta di Vlaovic la parata di Racciano e poi l'autogol di Venuti che è una cosa imbarazzante oggi la Fiorentina meritava meritava mi dispiace veramente tanto lo ripadisco lo ripadisco perché la Fiorentina è calcio quando vedi la Fiorentina è impossibile annoiarsi è impossibile annoiarsi rispetto alla partita del derby delle semifinali di Coppedalia questa è stata divertente con un'atmosfera clamorosa del Franchi l'arbitro ha dovuto gestire una partita difficilissima perché comunque con tutto quel pubblico della Fiorentina quel rito su Vlaovic ogni volta che toccava il pallone fischia bombardamenti altro che Putin e poi anche quando andava a prestare il portiere una roba clamorosa vista oggi al Franchi comunque ne risentono tanto perché la rivalità è ampia oggi Cabral è entrato alla panchina fa poco e nulla così come Piontek per tutto il resto della partita però la Fiorentina ha giocato molto sulle fasce meritava questa vittoria secondo me poi è vero che chi vince cioè vince chi segna effettivamente però è un autogol ragazzi è un autogol la Juventus di Allegri gioca male però riesce a vincere alla fine quello che conta non perdono dal 27 di novembre in campionato e comunque continua anche la striscia per tutte le competizioni tanta roba questa tranne la Supercoppa Italiana però tanta roba la Juventus in costanza però non meritava la vittoria parliamoci chiaro lo ribadisco sempre 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 di più e meritava la Viola meritava meritava questi semifinali vabbè noi ci vediamo alla prossima ciao